Mai dire 30 minuti di marketing, il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti in mai dire 30 minuti di marketing, io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte, sempre più goloso, sempre più esperto di public speaking per il business, Giuseppe Franco, che saluto! Eccomi qui, sono ancora rimasto con le parole, con quello che dicevamo, i film mentali, la comunicazione e oggi che cosa abbiamo nel nostro caro menu? Oggi parliamo di quelle che sono le parole visuali, cioè l'importanza di creare delle immagini all'interno della testa del nostro potenziale cliente, perché è lì che poi ti vai a giocare la partita. Ma mi sembra che l'ultima settimana, la settimana scorsa, ci siamo lasciati un po' con questa guerra, tra virgolette, questa battaglia comunicativa tra Samsung e Apple. Ci vuoi dire qualcosa, Giuseppe? Assolutamente. Certo, andare a fare un'analisi di quelli che sono i due prodotti sarebbe impensabile, anche perché si parla appunto di molto visuale, non solo parole, ma proprio di immagini. Ci sono alcune cose che, noi perché l'abbiamo fatto? Uno, perché quando parliamo di Apple, di questi modelli, uno pensa, ok, loro hanno un sacco di soldi e noi non possiamo farlo e sono problemi di altro tipo. No, abbiamo visto che anche tra i titani, cioè nel senso in questo caso iPhone, Apple per intenderci e Samsung, che Samsung voglio dire non ha problemi, insomma non è che sia messa male, per cui tra di loro affrontano le stesse difficoltà che potrei affrontare io nel copy. Certo, in modi più grandi, però le cose sono le stesse e tu avevi anche parlato di quello di avere un punto di vista, un attacco, di guardare le cose in modo diverso, abbiamo detto questo e oggi cingiamo a parlare di parole. Allora, io in questo momento sono, avevo invitato ad andare a fare un'analisi tra l'iPhone, per esempio la scheda di prodotto dell'iPhone e metterla a confronto con quella di Samsung. Io in questo momento sto facendo iPhone 13 Pro con Samsung Galaxy S21, in questo istante. Quello che abbiamo notato, poi tra l'altro ne parlavamo anche con te fuori onda, quanto ci sia più per l'iPhone 13 oltre al discorso di parole che vanno molto sul lavorare. Allora, loro si prendono a colpi di fotocamera, potremmo dire, tra i due. Sì, sì, assolutamente. Certamente uno cerca sempre di spingere sulla fotocamera e uno insegue l'altro, poi non si capisce dove sia più sbilanciato, perché sai che i prodotti sono anche una sorta di religione, perché sono così, Samsung figo, iPhone più figo, però loro si scannano su questo. Però quello che si può giustamente dire è che si nota che iPhone in questo caso ha una comunicazione che punta molto al visivo, tante più immagini, un ordine e meno descrizioni in alcune parti. Mentre nel caso di Galaxy si notano magari un po' meno ordine, possiamo dire, Max, nello scorrere l'immagine, non che non ci sia ordine, però ti manda di qua o di là e punta subito a darti dei testi descrittivi, cioè che descrivono, non dico le caratteristiche, ma siamo lì, tranne qualche parola messa tipo straordinario in soli 6.4 pollici. Ecco, questa è già una prima, diciamo, una prima piccola differenza. Poi se andassimo ad analizzare le singole parole ci accorgiamo che poi tutte e due, in una maniera o nell'altra, puntano e ti fanno vedere, ti fanno immaginare come cambierebbe tecnicamente la tua vita una volta che acquisti i loro prodotti, perché poi alla fine è fare immaginare, è quello che dicevamo noi, no? Il film mentale. Poi mi pare che ci sia un piglio da parte di Apple, ripeto, un po' più visivo rispetto a quello di Galaxy, però ci sono anche delle zone dove, chiaramente anche qui, è scelta di punti, possiamo dire, di attacco, di modalità, uno punta sullo schermo, insomma queste qui, anche perché mi fermo perché mi rendo conto che potrei parlare all'infinito, però se uno va a vedere queste cose si impara anche tantissimo perché notiamo come due titani, tra di loro si stanno scontrando a trovare dei punti diversi, anche noi potremmo ragionare nel nostro piccolo osservando quali possono essere le parole giuste e l'angolo diverso. Ma è molto importante, come dici tu in questo momento, trovare l'angolo, cioè trovare l'angolo di attacco, cioè non provare ad attaccare tutto su tutti i fronti, quindi attaccare tutti i tuoi potenziali clienti su tutti i fronti. Max, perdonami un secondo, ti interrompo, l'angolo di attacco preciso, un modo di dire, perché stiamo vivendo una comunicazione terribile online, perché la gente si pigliano a testate uno con l'altro, ci sono veramente su video, su YouTube, gente che si scanna uno con l'altro. Noi non parliamo di quel tipo di angolo di attacco dove tu devi criticare il tuo concorrente, parliamo di far vedere, evidenziare qualcosa di più rispetto al nostro concorrente. Ok, solo questo voglio aggiungere perché sai che sta veramente diventando un cialtronaio, una mia polemica. Potremmo aprire polemiche enormi, ogni tanto qualcuno se ne esce. Vabbè, non entriamo in queste polemiche. L'angolo di attacco, come giustamente hai specificato tu, è trovare un aspetto del proprio prodotto o del proprio servizio e raccontarlo in maniera più forte e sicuramente diversa rispetto a quello che fanno in questo momento i nostri competitor. Ora, ad esempio, abbiamo parlato di Samsung ed Apple perché probabilmente sono i telefoni, anzi, sicuramente in questo momento sono i telefoni non solo più cari ma anche quelli più venduti in generale o comunque hanno una grossa fetta di mercato, un'enorme fetta di mercato, si contendono comunque il mercato degli smartphone di un certo livello. Entrambi hanno messo il punto su quello che è la fotocamera perché tutte e due parlano di fotografie straordinarie e così via. Apple, da parte sua, al di là dell'immagine, se vedete il sito forse potrebbe, sembra almeno dal mio punto di vista più bello rispetto a quello di Samsung, ma al di là di questo sono alcune parole che ogni tanto mette dentro che sono delle parole potenzianti. Ad esempio c'è questa bella frase, dice iPhone 13, il tuo nuovo superpotere. Ecco, superpotere in questo caso, ma solo perché stiamo parlando della comunicazione di Apple, perché se fosse la comunicazione di un'azienda normale, probabilmente superpotere sarebbe forse più un boomerang che ti viene dietro. Lo prenderesti in giro. Esatto, no, perché poi queste dinamiche vanno... Allora, il copy è una cosa molto complessa, cioè nel senso che non è che semplicemente prendi la parola straordinario, prendi la parola superpotere e poi tutto cambia. È chiaro che dipende da chi sei tu, cioè se tu sei Apple, sei Coca-Cola, è chiaro che uno, sei un brand conosciuto, due, bene o male, tra virgolette, ti hanno assaggiato, cioè nel senso che Coca-Cola probabilmente l'hanno assaggiato un po' tutti nella vita, a un senso che dico Coca-Cola l'avranno fatto. Se non hai avuto tu Apple perché non hai il telefono Apple, conosci almeno una persona che abbia quel telefono e che probabilmente ne possa parlare bene. Cosa che invece non avviene o avviene molto più raramente circoscritto nei casi delle nostre aziende, che sono molto piccole. Quindi ad esempio io parlo di 667.agency, dico sì, 67.agency è una straordinaria agenzia di re-generation e marketing automation, però non è che poi se io prendo 100 persone a caso trovo 90 persone magari che sono miei clienti, ne troverò forse una, forse zero, perché i grandi numeri sono appannaggi di queste grandi aziende come Samsung, Apple, Ikea, Disney, Netflix e così via. E quindi in questo caso la dinamica e anche la modalità con la quale tu fai comunicazione cambia. Tuttavia, rientrando un'altra volta nei nostri parametri di comunicazione, di fare copywriting, è molto importante imparare a creare le immagini, perché come ho detto in chiusura della settimana scorsa, le parole sono importanti quando riescono a creare nella mente del tuo potenziale cliente delle immagini, che però siano immagini che riescano a suscitare nella testa del tuo potenziale cliente delle emozioni, perché poi solo le emozioni, quando sono emozioni che ti fanno un attimo muovere dalla sedia o dalla voltrona, ti spingono a compiere un'azione. Questa è una cosa molto importante. Quindi, ad esempio, invece di dire, che ne so, guadagnerete un sacco di soldi, io posso dire incasserai 3.450 euro ogni settimana. Cioè dare un concetto dove quella persona se li va a immaginare, perché un sacco di soldi è molto relativo. Quante volte abbiamo parlato del cervello rettile, che è un cervello concreto, che ha bisogno di concretezza, magari qui se vuoi aggiungere tu qualcosa ti lascia tra 30 secondi la parola. Una cosa è dire guadagnerai un sacco di soldi. Un'altra cosa è dire incassi 3.450 euro ogni settimana con questa modalità di investimento e bla bla bla. Cambia tutto. Invece di dire queste sono delle mele rosse, sono succose, io ti posso dire che queste mele sono raccolte a mano da mia nonna tutte le settimane, sono succulenti e sono zuccherosissime, sono dolcissime, quindi si sciolgono in bocca e ti lasciano una bocca così piena di gusto e di sapore. Cambia tutto perché nella tua mente si innescano, come ho parlato la settimana scorsa, si innesca il senso del gusto, il senso della vista, la mila rossa, il zucchero, la nonna che va a raccogliere le mele e tante altre cose rispetto a queste mele, sono rosse, sono buone, compra perché sono a un buon prezzo, Giuseppe. Guarda, mi sembrava strano perché il comitato Crocbrain, c'era il bello rettile e ci aveva chiamato, dice ma questi è da puntate che non ne parla, esatto, quindi ne dobbiamo parlare. Beh, la concretezza appartiene quando uno dice, vabbè, voglio essere concreto, proprio perché noi dobbiamo dare quelle informazioni, cioè non suscitiamo interesse. Il nostro cervello, come noi l'abbiamo raccontato in più occasioni, lui lì, fermo sul suo divano, con la sua coperta, non si sposta se tu non gli dai delle indicazioni precise. Gli devi dire esattamente quello che hai da dare, cioè tre cose, quattro cose. Questo funziona quando noi diamo dei numeri, quando diamo proprio delle misure, delle comunicazioni nette, lui si muove, altrimenti non otteniamo. E la cosa poi interessante è che è il gancio iniziale di una nostra comunicazione, questo vale sempre. Lì, se tu non chiedi attenzione da subito, il resto puoi farlo anche fighissimo, ma non ti ascolta nessuno. Quindi tu è un po' come se dovessi prima dare una mano per far portarlo da te e poi piano piano aggiungi gli altri elementi. E questo puoi farlo soltanto con una concretezza iniziale. Ma guarda, è chiaro che la concretezza è fondamentale, va aggiunto che a questa concretizia, perché altrimenti molto spesso quello che vedo, io ho qui davanti una comunicazione che ora te la leggo molto veloce, è un ristorante italiano, è interessante all'estero, è interessante me lo sono annotato, molto spesso si confonde la concretizza con l'aridità del testo. Cioè dice, io devo essere concreto. Allora, un testo concreto potrebbe essere questo. I clienti amano il nostro cibo, autenticamente italiano, perché lo prepariamo proprio come facciamo per le nostre famiglie. Venite a provarlo, è delizioso. Ora, questo testo, cos'è, ad ascoltarlo? Non è neanche male, no? Dice, i nostri clienti amano il nostro cibo, perché è italiano, perché lo prepariamo come lo facciamo per le nostre famiglie, venitelo a provare perché è delizioso. Ci sembra anche concreto, ci sembra giusto, eccetera. Ma non è niente a che vedere, magari, con quest'altro testo rielaborato, è una chiave più da creare immagini mentali che ci spingono poi a comprire l'azione. E quindi partiamo con, facciamo la pasta fresca tutte le mattine. Ecco, già questo è quello, non il famoso gancio che tu dicevi, c'è già parto con un concetto interessante. Facciamo la pasta fresca tutte le mattine. Cuociamo il pane nel nostro forno. Ecco perché è così dorato e croccante. Dorato e croccante sono due parole. Una che ti dà un'immagine visiva e l'altra che ti dà anche un'immagine, cioè ti dà anche una comunicazione uditiva, perché quando pensi al croccante, pensi anche al croc, non che fa il pane quando lo mordi in bocca, ti dà tutta una serie di sensazioni interessanti. Ecco cosa vuol dire creare delle immagini visive. La nostra salsa è fatta in casa, non prendiamo mai quelle preconfezionate. Tutto quello che serviamo in tavolo è fatto in casa. È naturale al 100% e ovviamente per questo è squisito. La differenza tra queste due comunicazioni sta soprattutto nella parte iniziale, perché ti facciamo venire voglia. Ti racconto che la pasta è fatta in casa, ti racconto che il pane è fatto con il nostro forno, ti do la possibilità di immaginarlo, quindi ti do il colore, ti do il suono che fa il pane, magari ti ricordo anche il gusto di qualche volta che hai assaporato un bel pane croccante, quella bella sensazione in bocca che ti fa il cronk della scorza di pane, della cosa che si sbriciola in bocca con un po' di bruciacchiato che magari fa anche piacere in questo caso. Tutto questo ti ricorda tutta una serie di associazioni positive. Ad esempio a me ricorda sempre una nonna, quando andavo a casa, una nonna che mi preparava questo, tagliava questo pane che faceva lei in casa, tra l'altro, mi metteva la salsa di pomodoro che stava preparando dalla mattina, mi faceva assaggiare questa cosa e per me era bellissimo. Quindi un'immagine come questa mi riporta alla mente una situazione come quella e magari sono più predisposto a comprare da te piuttosto di andare da quello che mi dice no, noi facciamo comunque, il nostro cibo è delizioso perché è fatto in casa così come lo facciamo alle nostre famiglie venite ad assaggiare che sembra una comunicazione fatta bene ma non ha la potenza evocativa di una comunicazione che si basa invece sulla vista, l'olfatto, il gusto, la cinestetica del movimento e così via. Giuseppe. Esattamente, hai detto bene nel fatto di dover precisare perché poi la parte di concretezza riguarda davvero il gancio che gli dici qualcosa di particolare. Tu in questo momento dicevi non detto pasta, detto pasta fresca e quella fresca in più già è una cosa che ti dice ok, c'è qualcosa di diverso, di buono perché in genere la pasta ce l'immaginiamo quella pasta che è fresca, oddio, è una cosa buona però poi quello non basta come dicevi e dobbiamo aggiungere tanti altri elementi che in qualche maniera poi vanno a strizzare l'occhio all'emotività e quindi di far vivere il nostro solito film mentale quindi la pasta fresca associo tutto un racconto che c'è dietro anche qui è giusto ribadirlo dobbiamo sempre sapere a chi stiamo parlando quindi che cos'ha quali sono i punti che possiamo toccare nella testa di chi ci sta ascoltando per fargli rivivere appunto quel film mentale. Ma vedi la questione giusto per andare verso la gesura della puntata è quella di capire che il copy al di là di tutte le strategie che uno può imparare AIDA, PASS e così via tante cose che tra l'altro chi ha iniziato il corso voglio dire 667.agency slash copywriting trattino del meno mentoring che è un corso che è iniziato da poco e che durerà qualche mese al di là di tutte le strategie che uno può imparare la cosa importante del copy è quella di riuscire a creare queste immagini mentali quindi hai bisogno di parole che siano parole percettive parole che spingono a creare immagini mentali e quindi di emozioni ad esempio se stai vendendo una moto è chiaro che chi compra una moto è sensibile al senso di libertà al vento sulla faccia e quindi che ne so immagini il vento sulla tua faccia e il senso di libertà quando sarai alla guida di questa splendida moto la sto buttando così chiaramente cioè nel senso che non sto dicendo la migliore frase possibile per vendere una moto ma devi andare a come dire stimolare quelle immagini visive quelle cose che c'ha nella testa la persona che si vede si immagina si proietta nel suo film mentale noi abbiamo visto la puntata scorsa di lui sulla moto e sta andando a tutta velocità magari in autostrada oppure su una bella strada e c'ha la natura a destra e a sinistra e può sentire il profumo immagina il profumo e la possibilità di ascoltare ad esempio io quando feci un grosso evento con la Piaggio e giramo tutta l'Italia su una Vespa per i 70 anni di viaggio mi ricordo questa cosa fu bellissima quello che io notai perché non sono uno che va in moto anzi ho imparato in quel momento ho preso la patente una settimana prima la patente della moto l'ho preso una settimana prima dell'evento però quando ho girato su questa Vespa tra l'altro 125 quindi abbiamo fatto tutte le strade interne dell'Italia e siamo andati veramente da da Ponte d'Era fino in Sicilia una delle cose che mi ha colpito più di ogni altra di ogni altra cosa è stata l'esperienza olfattiva cioè quando io ho attraversato quei fantastici campi ma non so anche della Toscana sentivo i profumi cosa che in auto non accade tu anche se sei in un posto fantastico non senti il profumo dell'erba meno che non hai aperto tutto ma di solito siamo sempre chiusi con la tema climatizzata quel profumo dell'erba quindi io potrei a questo punto creare una comunicazione e dire immagina il vento sulla tua faccia il senso di libertà e il profumo dell'erba quando attraverserai e bla 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 e ti racconto un'immagine come questa oppure la birra non so se tu sei amante della birra a me piace e cos'è che amiamo della birra generalmente amiamo il primo sorso di birra quello bello fresco gelato quella schiuma densa è il primo sorso che ti fa l'emozione quindi la schiuma densa è il primo sorso di birra gelata quella sensazione e bla 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 e allora è lì che crei l'emozione sensoriale quello che a volte io ne ho parlato in altri video in altre cose parlo l'effetto sfrigolio oppure se stai vendendo un barbecue è quello di raccontare immagini di stare insieme ai tuoi amici grazie al nuovo barbecue eccetera eccetera e poi magari ti vedi una sensazione bellissima il sentirsi più bello e attraente se stiamo parlando di un parrucchiere il senso di sicurezza quando sarai alla guida di questo straordinario SUV gli odori della pelle magari ci sono gli interni in pelle è tutto questo cioè è fare in modo che il tuo potenziale cliente possa attraverso le tue parole costruirsi delle immagini mentali ma questo vale anche se stai vendendo un servizio anche se stai vendendo una stampante cioè il fatto di avere una stampante che non si inceppa mai che se hai un problema io te lo risolvo velocemente quindi potrei crearti prima una situazione in cui tu stai lì e cambia la cartuccia e si blocca il foglio eccetera poi immagina invece una stampante che non si ferma mai che se avessi un problema mi mandi un whatsapp e un'ora dopo ci sta il tecnico che ti sta risolvendo il problema è qualcosa di fantastico questa mattina giusto per lasciarti poi la parola a te Giuseppe e chiudere la puntata ero con un mio cliente con il quale stiamo gestendo un grosso sito di e-commerce di gioielleria e così via e lui mi parlava di un servizio che abbiamo associato al suo e-commerce che riguarda tutto il servizio di spedizioni di invio di e-mail e roba simile e lui mi raccontava e mi diceva guarda questo servizio funziona benissimo perché quando io ho un piccolo problema o mando una mail o mando un whatsapp nel giro di pochi minuti mi rispondono e mi risolvono il problema io così sto in pace io prenderei questa comunicazione e la trasformerei proprio in questa immagina e tu domani mattina hai un problema con una spedizione il pacco non arriva non sai come risolvere non sai dove stai il tuo cliente dall'altra parte si sta arrabbiando e probabilmente ti lascerà una scensione negativa immagina se dopo 30 secondi ti arriva la risposta con la soluzione non ti senti più tranquillo le cose non funzionerebbero molto meglio è chiaro che nella testa di un potenziale cliente che ha un e-commerce e deve gestire questa cosa l'immagine nel film mentale che è un film piacevole e quindi a questo punto voglio sapere quale è questa azienda e voglio avere maggiori informazioni Giuseppe e sì che poi tra l'altro tutte queste parole che tu stai che hai menzionato per creare quella che è l'immagine mi incuriosisce anche il fatto perché questo lo puoi utilizzare sempre come tu dicevi e anche che fare anche quando parliamo in pubblico è la stessa cosa perché tu dicevi poco fa immagina anche tu quando tu inizi a parlare davanti a una platea e cominci a dire immagina adesso di trovarti in spiaggia è come se in qualche maniera tu stessi già dando il là e stessi facilitando la storia perché le persone le porti da quella parte no? Tendi la mano che ti vieni un attimo che ti faccio vedere quello che c'è di qua e quindi immagina di vedere questo ogni volta che ci sono queste penso anche per esempio se adesso fossimo in una spiaggia è la stessa cosa cioè come se li stessimo portando da un'altra parte però poi dobbiamo sostenere questa comunicazione con le parole giuste per cercare di far immaginare questo è un fortissimo è anche un buon esercizio perché nel momento in cui poi facciamo immaginare chiaramente si è creato quel film mentale di cui abbiamo fatto riferimento e questo dico per coloro che stanno pensando sì vabbè ma mi sembra quasi di prendere in giro no prendere in giro dico solo nel caso in cui lo fai con uno scopo negativo cioè del termine perché altrimenti stai solo facilitando perché se io prendo una persona e le faccio gustare un bel film quando viene e quindi è anche contento di aver visto quel film e è anche contento di fare una scelta consapevole più accurata perché proprio quando noi facciamo vivere questo film li togliamo da delle distrazioni li facciamo proprio raccontare vedere quello che succede davvero se hanno bisogno di quel prodotto non stiamo facendo altro che rendere più facile la vita in qualche maniera ed è proprio questo il concetto rendere far capire in che modo il tuo prodotto oppure il tuo servizio rende la vita lavorativa personale emotiva eccetera eccetera del tuo potenziale cliente migliore ed è questo di cui parleremo nella prossima puntata e di come a volte puntare soprattutto sul branding potrebbe essere veramente una cattiva scelta una vera cavolata per non dire qualcosa di più di più grande e quindi caro Giuseppe a questo punto io direi il riepilogo di Giuseppe Franco signori questo riepilogo che anche oggi è attesissimo insomma Ticket One ha registrato tutto esaurito in pochissimi giorni dopo due giorni della puntata tutti si erano prenotati per sapere che oggi cosa raccontiamo noi stiamo praticamente abbiamo detto abbiamo raccontato parlato di quella che è l'importanza di far immaginare al nostro cliente potenziale cliente abbiamo parlato nella scorsa scorsa non scherza non scherzo nessuno scorsa puntata per quello che riguardava il film mentale invece questa volta ci siamo soffermati un po' di più su quelle che sono state le parole iniziando a fare anche un'analisi per quanto un po' generica su quelli che sono i prodotti partendo proprio da esempi Apple piuttosto che Samsung ma da lì poi siamo andati un po' a vedere che le parole la scelta delle parole fa immaginare fa vivere una storia aiuta accompagna quelli che sono i nostri potenziali clienti e solo con una dovuta scelta riusciamo a creare che cosa a far una scelta far fare una scelta consapevole al nostro potenziale cliente bene e detto questo ci vediamo la settimana prossima parliamo di branding di perché puntare solo sul branding potrebbe essere veramente anzi è sicuramente una cattiva idea e detto questo siate felici ovunque voi siate magari lasciandoci una recensione 5 stelle siate felici ovunque voi siate ciao ciao hai domande lascia un commento se poi ti è piaciuta questa puntata scrivi pure la tua recensione a 5 stelle la leggeremo la prossima settimana tutte le puntate di mai dire 30 minuti di marketing le puoi ascoltare su itunes google podcast spotify youtube e spreaker inoltre su 667 punto agency slash podcast trovi link a video libri e a molte altre risorse ciao 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 Grazie a tutti.